Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino Salve a tutti, qualche rota Sony Siamo qui per presentarvi per SuDigitale parliamo quindi dell'associazione principale per quanto riguarda la categoria delle aziende digitali in Italia vediamo di dare un attimo uno sguardo per quanto riguarda il salotto targato Sony nello specifico abbiamo un pannello 4K quindi riusciamo poi a spalmare sulle soluzioni particolarmente anche 55 pollici, 65 pollici fino ovviamente all'ottantina abbondante riusciamo a spalmare questa splendida risoluzione nota appunto come 4K risoluzione che oggettivamente viene ad essere in pratica 4 volte il normale Full HD per quanto riguarda per esempio la resa cromatica diamo un attimo un'occhiata alla bimba tinta di rosso nonché appunto alle varie sfumature di verde smeraldo e di sole appunto durante il tramonto così da vedere appunto la capacità di gestione per esempio del colore rosso notate le sfumature brillanti dove per esempio annotiamo la sfumatura degli occhi della bimba in questione come anche per esempio della capacità di rendere sia rosso che l'arancione come si potrà vedere poi a breve nella demo di questo filmato a 3840x2160 punti noteremo appunto anche la presenza poi di un'arancia sbucciata dove sarà l'unico punto arancione all'interno della demo appunto presente di colore rosso lasciamo a questo punto la parola a Sony per quanto riguarda la presentazione del solotto targato appunto dall'azienda come vedete già nella parte inferiore possiamo notare velocemente un player multimediale nonché nella parte posteriore troviamo anche la Playstation 3 a breve rimpiazzata dalla Playstation 4 ok grazie mille per la presentazione quello che vediamo qua è l'ultimo lanciamento che abbiamo fatto a giugno adesso sul mercato questo che sarebbe il 65 pollici 4K chiamato X9 quello che abbiamo portato noi avanti è il discorso della qualità al massimo livello livello legato a quello che è il 4K come è segnalato benissimo quello che è il 3840x2160 per quanto riguarda la risoluzione significa 4 volte il Full HD la possibilità di vedere al massimo la risoluzione notate per esempio l'ottima finitura delle gocce d'acqua come anche delle parti anatomiche dei vari animali come anche del panorama notate la splendida risoluzione che questo filmato riesce a essere di cui riesce ad essere protagonista nel momento in cui viene appunto ad essere riprodotto su uno schermo con tale risoluzione il punto qui principalmente le strategie Sony per quanto riguarda al video e all'audio soprattutto quello che ci interessa molto è portare a casa del consumatore la massima qualità, la massima resa per quanto riguarda la definizione e soprattutto avere una sensazione di avere una finestra sulla realtà quello che vedete qui è un schermo di 65 pollici portato avanti per quanto riguarda la alta definizione 4 volte quello che è il Full HD cioè 8 milioni di megapixel e soprattutto dotato di quello che significa la nuova tecnologia di Sony che è il Triluminos la possibilità di avere un filtro tra il pannello e le luci LED che permette di fare i verdi più verdi piuttosto che i rossi con tutte le sformature come abbiamo parlato prima non è solo dotato della massima qualità e performance in definizione per quanto riguarda il pannello se no anche di quello che vedete alle parti orizzontali, verticali scusate per quanto riguarda l'audio un audio di massima qualità che non lascia perdere quello che è la definizione è anche aggiunto a tutto quello che può fare Sony PlayStation un home theater 5.1 canali che ti permette addirittura di avere quello che abbiamo chiamato il salto Sony in questo esemplare noi notiamo appunto la presenza direttamente di un audio on board notate appunto che il form factor del pannello in sé è appunto 16 noni tuttavia abbiamo un paio di estensioni presenti sul lato verticale nello specifico riusciamo quindi a enfatizzare lo sviluppo rettangolare del pannello in questione andando quindi ad includere automaticamente all'interno della macchina la presenza appunto di un supporto audio tuttavia il pannello in questione nel momento in cui magari vi trovate ad essere particolari amanti dell'audio sviluppato sul concetto di multicanale quindi per esempio audio 5.1, audio 7.1 riuscite tranquillamente a utilizzare il pannello 4K andando ovviamente ad unire un sistema a un theater in grado di spalmarvi appunto il suono su 7.1 canali in questo modo potrete avere il vostro tradizionale subwoofer per la resa della gamma bassa mentre per quanto riguarda la gamma media e la gamma acuta riuscirete tranquillamente a sfruttare il suono che appunto naviga attraverso i vari canali tutto intorno a voi come vedete appunto la stessa definizione in questo caso per esempio parliamo di una demo realizzata su Total Recall parliamo di un film che in questo caso viene rimasterizzato a 4K quindi vi permette in pratica di avere un contenuto ecco tra le mani riproducibile con ottima soddisfazione su un pannello di queste dimensioni ricordiamo che il 4K sia chiaro vi permette comunque di realizzare un upscaling dei vari contenuti è altresì ovvio che se partite da un 1080p e andate a chiedere l'upscaling fino al 4K è qualcosa di sicuramente fattibile e sicuramente apprezzabile se la vostra sorgente è nettamente inferiore come per esempio i vecchi filmati a risoluzione VGA l'upscaling sarà magari sì fattibile sì gestibile tuttavia capite bene che con un 640x480 come risoluzione l'upscaling diciamo che miracoli da un punto di vista della qualità del segnale non li riesce a realizzare per quanto riguarda poi i vari contenuti arriveranno tutti i nuovi titoli parliamo comunque di Sony quindi non parliamo certo di un'azienda piccola parliamo di un'azienda che riesce a produrre sia camere che pannelli che sistemi di intrattenimento come per esempio anche il supporto a pellicole nello specifico vedremo tra i primi titoli esistere appunto il po' di Toccare con Mouth per esempio Total Recall After Earth che dovrebbe essere appunto il titolo del film con Will Smith e il figliolo questo appunto è il figliolo se non ricordo male appunto il titolo è After Earth e vi permette in pratica di vivere la risoluzione 4K con appunto un contenuto degno di questa risoluzione notate per esempio la finitura delle stesse piante delle stesse parti anatomiche appunto delle varie animali, delle piante degli esseri viventi che vengono ripresi è assolutamente stupefacente questo salotto appunto targato Sony diventa quindi una porta sull'immediato futuro parliamo comunque di prezzi anche abbastanza contenuti per un 4K sì diciamo che quello che vediamo adesso è un 65 pollici il prezzo pubblico 7000 euro abbiamo una ridimensione più ridotta di 55 pollici a 4500 euro comunque sia sappiamo che sono dei prezzi importanti ma diciamo che ad oggi stiamo già vedendo dei prezzi nel mercato italiano considerate per esempio appunto i 4500 euro del pezzo in questione sono tutto sommato un prezzo che fino a un anno o due a e fa si riusciva appunto a pagare per un top di gamma ma magari basato su tecnologia al plasma o tecnologia di CD dipende poi ovviamente dal tipo di tecnologia e dalla qualità della gamma cromatica che veniva espressa tuttavia parliamo di un prezzo contenuto per avere una risoluzione appunto un 55 pollici con il 4K direttamente incluso non solo quello anche l'audio avete ovviamente anche il supporto audio quindi nei 4500 euro vi ritrovate sia il pannello che il comparto audio ovviamente il tutto viene pilotato con porte HDMI compatibili fino allo standard 1.4 quindi avete l'ultimissimo standard in grado appunto di comunicare con il pannello per esempio il vostro gioco oppure la vostra partita di calcio il vostro film qualsiasi sistema multimediale appunto voi volete andare ad apprezzare su un pannello di queste dimensioni per quanto riguarda questa rapida presentazione del salotto di Sony la nuova versione 4K a noi la si chiuderebbe così questa ovviamente è una brevissima anteprima vedremo poi sul campo come funziona e per questo si ringrazia l'azienda per questo angolo di tempo che ci ha ritagliato io ora vi saluto vi ringrazio dell'attenzione grazie anche a Sony grazie a Biscardi ci si vede online mi raccomando seguiteci su formobiles.info e i relativi social che abbiamo attivato per voi siamo sui principali canali siamo su Twitter, Facebook e Youtube dell'Emotion se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su quello che pubblichiamo per voi un saluto ci si vede online a presto da Giuseppe Ragozzino Forca Rock Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti